ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video il primo dei vlogmas chiamiamoli così questo format appunto saranno per quanto mi riguarda due video a settimana saranno sia tema natale ma non vi farò vedere quello che faccio io tra virgolette tutti i giorni vi farò vedere quello che combino soltanto se avrò qualcosa di effettivamente interessante da farvi vedere appunto questo primo video è il christmas tag è un video che avevo visto girare l'anno scorso appunto in periodo natalizio e pensavo che appunto fosse un'idea carina appunto da portarvi appunto questo tag in modo tale che voi sappiate quello che penso del natale per questi video comunque cercherò di non stare dentro al mio ufficio al mio studio ma di appunto portarvi in giro oggi per l'appunto sono al parco le domande se mai voleste farlo anche voi sul vostro canale le lascio in descrizione prima domanda film di natale preferito io penso di essere l'unica persona nel caso contradditemi qui sotto nei commenti a non aver mai visto una poltrona per due nonostante lo facciano tutti gli anni in in questo periodo io non l'ho mai visto in ogni caso il mio film tema natalizio preferito è mamma ho perso l'aereo sia l'uno che anche il 2 ma preferisco l'uno seconda domanda hai mai avuto un bianco natale ultimamente che io mi ricordi no probabilmente da bambina era più molto più probabile in queste zone almeno dove abito io che ci fosse la neve magari non proprio a natale ma comunque nel periodo natalizio sì probabilmente sì terza domanda dove passi in genere le vacanze di natale io seguo ho praticamente sempre seguito il detto natale con i tuoi e quindi lo passo a casa l'unica eccezione è stato il natale che ho passato in australia domanda numero 4 canzone di natale preferita ne ascolto tante ma senza dubbio ma direi che la mia preferita è last christmas degli um 5 apri i regali il 24 sera o il 25 mattina da me almeno a casa mia è tradizione aprirli il 25 mattina quando siamo tutti svegli quindi piuttosto tardi in realtà numero 6 il tuo albero è vero o finto il mio albero è finto peraltro non faccio soltanto l'albero ma anche il presepe a casa e vi farò vedere magari in uno dei prossimi video come decoro e come faccio sia l'albero che il presepe come le eventuali altre decorazioni che ci sono a casa mia numero 7 qual è il tuo cibo o dolce di natale preferito qui in friuli non abbiamo cose specifiche per il natale però questo qui è il periodo della brovada col musetto quindi che peraltro è molto buona quindi consigliatissima se non avete mai provato di provare brovada e musette a casa mia però sia per il cenone del 24 sia quando eravamo più piccoli e mio fratello per la veglia del 31 si fa la fonduta di carne è una sorta di tradizione che abbiamo numero 8 ti piace di più fare o ricevere i regali risposta abbastanza scontato è molto bello riceverli ma anche farli è abbastanza soddisfacente soprattutto quando il regalo che fai è un regalo azzeccato diciamo in realtà non sono una grande amante dello shopping e cerco di prendermi sempre un po in anticipo almeno con la maggior parte dei regali perché non mi piace appunto lo shopping compulsivo degli ultimi giorni numero 9 hai un posto da sogno da visitare a natale in realtà ho molti posti che vorrei visitare ma non specificatamente a natale in ogni caso penso che sarebbe molto interessante festeggiare il natale su christmas island numero 10 qual è il tuo ricordo più bello di natale l'atmosfera in generale di quando ero piccola appunto si stava tutti insieme a natale eccetera mi ricordo anche molto bene i famosi film cartoni animati della disney di natale ogni natale ne usciva uno e ogni natale arrivava puntualmente la videocassetta la vhs perché si sono vecchia del film del dell'anno precedente numero 11 forse la domanda più difficile a cui rispondere pandoro o panettone io li mangio tutti e due non non sono razzista da questo punto di vista ma se devo scegliere io scelgo assolutamente il panettone siete liberi di insultarmi nei commenti per questa mia scelta bene questa qui era l'ultima domanda spero che abbiate trovato interessante questo video e che vogliate continuarmi a seguire nei video che pubblicherò prossimamente appunto due a settimana martedì e sabato sempre alle 18 qui sul mio canale quindi iscrivetevi e lasciate un like se appunto volete sostenermi in descrizione vi lascio i link a tutti i miei social in modo da potermi seguire in queste mie avventure natalizie e non solo detto questo io vi saluto e vi dico have a nice life